Fonditalia con Cristina Bellante, segretario generale di Nordic Ski, comitato organizzatore dell'evento in Val di Fiemme, questa settimana la parte finale del Tour de Ski, settimana prossima a quella della combinata nordica, 14-17 gennaio, insomma due settimane molto impegnative dietro le quali c'è un grande lavoro. Buongiorno a tutti, una settimana molto impegnativa con il Tour de Ski appunto che ormai abbiamo finito, è quasi quasi dimenticato perché chiuso il Tour de Ski dobbiamo subito tuffarci nell'organizzazione delle gare di combinata nordica, un Tour de Ski che nonostante le premesse, purtroppo quest'anno col Covid si presentava ancor più impegnativo del solito ma che grazie comunque all'impegno di tutti siamo come sempre riusciti a portare a termine, credo proprio nel migliore dei modi. Quindi nonostante l'assenza di pubblico però c'è stato immagino più lavoro per voi? Indubbiamente, giustamente viste la situazione dovuta alla pandemia anche noi come comitato organizzatore abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti, la prima decisione è stata quella appunto di salvaguardare la salute degli atleti e quindi di rinunciare al pubblico, alle manifestazioni di contorno, a tutto quello che può sembrare superfluo ma che non sarebbe in condizioni normali, anzi che è un punto di forza in condizioni normali ma che in questo caso purtroppo abbiamo dovuto rinunciare. Oltre a questo abbiamo dovuto spendere un po' più di energie per quanto riguarda l'allestimento appunto di tutta la prevenzione e sicurezza relativa al Covid, basti pensare che tutti i volontari coinvolti sono stati sottoposti a tampone. A proposito di volontari, quanto sono importanti, insomma persone che per passione sono qui, mi facevi ieri l'esempio addirittura dei parcheggiatori. Ecco io dico sempre che tutti siamo fondamentali, a me piace un po' nel mio immaginario pensare il nostro gruppo come un'orchestra, tutti sono indispensabile e anche quello che suona l'ultima battuta col triangolo, se la sbaglia rovina tutto l'insieme. Noi siamo un gruppo affiatato, tutti hanno il loro compito, tutti lo svolgono in maniera oserei dire quasi professionale e fanno in modo che la sinfonia arrivi al massimo del risultato. A proposito, l'esperienza maturata negli anni, quanto è importante proprio per questa sinfonia? Anche, questo anche gioca un ruolo importante e devo dire che noi siamo fortunati, allora da una parte siamo fortunati perché abbiamo degli volontari che ci seguono dal 91, quello che ci dispiace un po' è che forse i giovani non percepiscono, non hanno questa grande passione, ma io sono convinta che adesso, visto che abbiamo ottenuto anche l'organizzazione delle Olimpiadi 2026, possa rinascere questo entusiasmo nei giovani. A proposito di Olimpiadi, tu eri già nel 91, eri qui al lavoro, quindi fino al 2026? Eh beh, per forza, è la ciliegina sulla torta del 2026, è il coronamento di un sogno, credo che per chi è nel mondo dello sport, le Olimpiadi sia da parte degli atleti ma anche degli organizzatori, il traguardo e quindi direi proprio di sì. L'ultima cosa, ecco, tanto sforzo anche premiato, al di là della bellezza delle gare, anche da questo paesaggio stupendo, almeno a livello climatico insomma, diciamo c'è stato un po' di clemenza, no? Verso la Val di Fiemme. Sì, quest'anno se non altro appunto abbiamo dovuto rinunciare al pubblico ma ci ha graziato il tempo regalandoci delle immagini decisamente stupende, visto che abbiamo invitato tutti gli spettatori a seguirci per televisione, almeno vedono un bel paesaggio.